Grazie a tutti Vabbè, siamo in un parco palazzo, caldo, sola, non c'è nessuno, puoi camminare come ti piace. E questo è tutto. Voglio vivere come era prima, vent'anni fa. Se io non vivi così, è meglio finire. Questa è la realtà, perché se non già fai camminare sei già morto. Questo è chiaro. Però si deve vivere, deve vivere, che puoi camminare, che... All'imene che cammino. Questo vuoi essere ricadentro. Vi saluto a tutti. Tengano un maestro, che è giusto come una roccia. Cammino, cammino, cammino. Magari potranno essere un uccello che vola. Avete combattato tutto. Sta parlando del marito a Barno Giovanni. Lui è così veloce, lei è così mosso. Arrita. Arrita. Grazie a tutti.